puoi iniziare luca allora buonasera a tutti questa è un'iniziativa proposta da articolo 1 e dedicata a nel quadro di un lavoro più vasto sul centenario della fondazione del pc al contributo di antonio grazie perché ci è venuto in mente di fare questa iniziativa perché nel in una precedente appuntamento dedicata appunto al partito comunista l'impronta gramsciana e la preziosa eredità che gli ha lasciato emergeva come una miniera che meritava nel contesto di quello che può fare una piccola forza e dei suoi sforzi di approfondimento meritava appunto un momento di specifica più particolare lo faremo con ospiti di primo ordine che hanno intrecciato nella loro biografia come dire impegno quantomeno riflessione politica e formazione culturale sono interlocutori diversi che compendiano diciamo nelle loro varie figure poi li presenterò il momento dell'azione politica e quello del contributo terrorico nell'albero di una tradizione a prevalenza comunista ma anche con altre falde con altre origini dunque perché per parlare del pc come si è fatto in questo periodo è indispensabile parlare di gramsci perché a ben guardare il pc che si è conosciuto in particolare quello come dire formatosi affermatosi col dopoguerra vide nell'eredità gramsciana la sua risorsa fondamentale togliotti studia prima della pubblicazione dei quaderni tra 31 e 49 il suo prodotto carcerario e riguardando ripensando a questa centralità mi è venuta in mente una cosa cioè il dibattito che alle soglie dell'affermarsi di una realtà nella quale ancora viviamo cioè quella sebbene in crisi di un ciclo neoliberale molto influente ecco mi ha colpito il fatto di ricordare che nel 78 79 all'inizio di questa grande sbornia neoliberale anche a sinistra c'è un gruppo di intellettuali molto noto ancora oggi alcuni vivi altri venuti meno da bobbio a giuliano amato fino a ernesto galli della loggia che in quegli anni insiste sulla immaturità del pc a poter accedere al governo del paese e chi ti prende come bersaglio lo descrivono come un autore che mette insieme leninismo e un po di consenso una variante italiana del leninismo lo vogliono per così dire depurare di tutta la ricchezza cognitiva categoriale che egli ha espresso lo ricordo perché di lì è partita un'offensiva e quello che colpì è anche un po la reazione che forse non fu all'altezza da parte di quelli che dovevano essere gli eredi di gran questo lo dico perché da un lato come dire gli interlocutori più preoccupati di un'avanzata di una di quelle spinte che vennero anche dal lungo ciclo del 68 che potevano essere portate al governo anche se poi lì la questione sia reno presero proprio gramsci a riferimento come bersaglio e invece in molti casi non vissero pure una reazione persuase da parte dei comunisti anzi salvo uno due casi diciamo così si avvertiva già una difficoltà una debolezza io vorrei dire questo l'eredità di gramsci perché ci interroga ancora perché l'eredità di un autore che elabora le sue categorie come lui dice fu evig per il lungo periodo ma lo fa anche per costruire combattere immaginando di poter combattere una battaglia politica le varie nozioni intellettuali ruolo della mediazione tra teorie e prassi l'egemonia la critica all'economicismo tradizionale della terza e della seconda internazionale sono tutti strumenti che poi combinano un quadro complessivo che ancora oggi è degno non solo di attenzione ma di attingimento politico d'altra parte non vi è autore italiano così tradotto nel mondo come e questo perché intanto perché gramsci è l'autore che non guarda soltanto la soggettività della classe operaia ma individe ruolo dei subordinati molto più ampiamente le classi subordinati e poi perché l'autore che mette a fuoco il ruolo degli intellettuali come dicevi e ancora perché e qui c'è un tratto di singolarità assoluta rispetto a tutta la tradizione marxista perché è quello che vedene sul terreno dell'ideologia e dunque della formazione del senso comune dei diversi tipi di conformismo non solo un elemento come avrebbe si direbbe in termini ortodossi di falsa coscienza di falsificazione ma il terreno dove gli uomini prendono consapevolezza della loro soggettività storica di cui il grande interesse per due fattori uno è il rapporto tra lo stato e la società civile oggi si parla tanto di società civile ma se ne fa un uso di store l'avvocato che va al in parlamento è società politica poi quando va a giocare a scacchi al circolo è società civile e quando invece si fa pagare la parcella è società economica e tutti questi aspetti come già aveva visto e sono tenuti insieme nel rapporto tra stato e società civile sulla base di questa così interdipendente visione gramsci mette in campo anche le sue categorie più conosciute prima fra tutte quella di egemonia che è un che è un modo per mettere a fuoco secondo me il fatto che innanzitutto un'idea di democrazia cioè la capacità che una volontà collettiva può avere di farsi soggetto in un contesto intensicamente pluralistico reversibile quindi contendibile e diciamo in grado di sostenere quindi un sistema relazionale in cui si cala il gioco democratico una cosa molto diversa da quello che viviamo oggi in cui la democrazia è ridotta quasi spesso solamente a una tecnica per scegliere il decisore politico e poi ancora e concludo la straordinaria attenzione che gramsci annette al superamento della divisione della dimensione politica rispetto ai confini degli stati il suo progetto di società regolata di ricomposizione del genere umano va al di là dei confini dello stato nazione e soprattutto si confronta con i punti alti dello sviluppo capitalista penso innanzitutto alla questione dell'americanismo laddove anche qui in maniera molto differente rispetto alla tradizione marxista possibilità di autodisciplinamento che crescono con l'espansione dei consumi non un comportamento al quale aderire ma una possibilità che può essere anche ribaltato si possono cioè è ancora possibile giocare le risorse per costruire soggetti politici e senso comune diversi sapendo che tra scienza e senso comune c'è una diversità sostanzialmente di intensità non di qualità noi ci formiamo sempre mentalità e il problema è come riuscire a rimettere in campo oggi quel progetto di partecipazione democratica di volontà di primato della volontà collettiva che per lungo tempo e ancora oggi appare così come dire sotterranto e sotterranto e sotterraneo quindi io vorrei diciamo chiamare innanzitutto sulla base del dell'eredità gramsciana riflettere i nostri interlocutori su questo tema come si può ricostruire un soggetto della subalte di rappresentanza del mondo dei subordinati oggi lo facciamo e presento così gli interlocutori con diverse esponenti diversi come dire nostri compagni fabio mussi che non ha bisogno di presentazione che è stato oltre che ministro capogruppo in parlamento anche un giovanissimo vice direttore di rinascita e membro del comitato centrale e poi segretario regionale del piccincarabio altre cose lo facciamo con maria luisa boccia che è l'attuale presidente del crs filosofa e filosofa della politica con il professor jacono dell'università di pisa che per anni ha avuto la cattedra di ordinario di storia della filosofia e che si è impegnato su autori come marx e gramsci e ancora con michele de palma della segreteria generale della fiom un invito non casuale perché lo sforzo è quello di come dire misurare le categorie gramsciane anche un po nell'attualità dei rapporti di forza ecco allora quindi io la prima domanda che farei a voi è proprio questa ci aiuta gramsci a pensare di poter costruire un soggetto di rappresentanza dei nuovi e dei vecchi subordinati sapendo che qualcosa si sta muovendo questa roba di amazon a me ha molto colpito e come si passa dalla spontaneità al disciplinamento a quell'elemento di organizzazione politica così centrale come esigenza nella teoria gramsciana ma direi così centrale in ogni occasione storica la domanda la risposta a voi io chiederei innanzitutto a forse al professor jacono di intervenire diciamo così e poi facciamo il giro non si sente hai ragione perché avevo il microfono chiuso chiedo scusa avevo dimenticato rispetto alle questioni che poni tu gramsci oggi insomma solo due tre cose in modo in modo schematico primo una nota che è curiosa un po triste un po interessante e in questo momento grammi c'è più nota all'estero che in italia se non va del rato la grammi society si trova a new york va benissimo ma insomma un po buffa la cosa diciamo ecco da un punto di vista così detto questo io penso che gramsci come dire ci possa aiutare oggi fondamentalmente per farci capire se la devo dire insomma ecco se devo scegliere come siamo caduti in basso se devo essere proprio chiaro ma non nel senso banale della parola ma nel senso che le categorie che gramsci ha utilizzato e che a mio parere sono ancora come dire estremamente importanti e significative forse ci possono aiutare o ci aiutano a capire che cosa è successo almeno dagli anni dagli anni che dicevi tu cioè dal fine degli anni settanta ma soprattutto dagli anni ottanta in poi da quello che poi viene chiamato da un lato neoliberismo dall'altro da un punto di vista culturale una delle estreme propaggini del post modernismo del post moderno cioè i grandi mutamenti che ci sono stati e che abbiamo ancora sulla pelle faccio un esempio brutale immediato il fatto che non è all'ordine del giorno oggi in nessun dibattito la socializzazione dei brevetti delle aziende farmaceutiche di fronte della gente che muore è proprio il segno proprio dell'egemonia culturale potente che ha il neoliberismo perché se non è all'ordine del giorno una questione così drammatica che non il fatto che si possano socializzare brevetti non è poi chissà quale rivoluzione ecco ma di fronte al fatto che si negozia oggi brutalmente sulla sui vaccini e sui soldi e sui profitti mentre muoiono le persone ecco questo è un dato e il fatto che questo viene assunto come un dato naturale quasi nessuno i singoli ne parlano ma non è all'ordine del giorno non si discute neanche una cosa di questo genere parte che lo trovo mostruoso è significativo di che cosa del fatto che purtroppo un'egemonia una categoria un concetto come quello di Gramsci di egemonia oggi è utile per capire la situazione all'incontrario cioè come sia stato egemone e che potenza egemonica ha il neoliberismo lo ha proprio come dire rispetto a alcuni fattori ecco primo una questione proprio come dire di quello che io chiamo processo di naturalizzazione cioè tutto appare naturale ormai le persone vengono anche i ragazzi vengono educate all'individualismo si vede con la situazione della pandemia chiaramente è chiaro che nessuno lo vuole dire ma il virus ha un'intelligenza collettiva superiore a quella umana è evidente perché noi siamo organizzati in gran parte organizziamo la nostra collettività come un mezzo per il nostro individualismo e abbiamo difficoltà a fronteggiare una cosa come il virus è divertente perché abbiamo dei dubbi sul fatto che il virus sia vitale nello stesso tempo però questo virus ci sta mettendo in una condizione che se non fosse tragica ha addirittura delle situazioni comiche per il caos che da questo punto di vista sta creando perché 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 noi viviamo secondo me in una società che io chiamo di democrazia senza democrazia cioè si è realizzata quello che filia l'ha dichiarato ma che teorizzavano schumpeter molto amati anche a sinistra alcuni personaggi che era quello di pensare una democrazia diciamo costruita fondamentalmente sulla scarsa partecipazione sull'ignoranza pubblica e sull'apatia politica lascia voi giudicare se non siamo se questa cosa dopo 50 anni non si è paradossalmente realizzata e questo è l'esatto opposto della della riflessione gramsciana chiaramente è inutile dire se il discorso di gramsci è siamo tutti filosofi bellissimo se il discorso di gramsci è una società regolata legata alla partecipazione noi qui ci troviamo in una situazione a mio parere come minimo contraddittoria e l'altra categoria che ha senso è la rivoluzione passiva e ha senso proprio perché questa operazione di neoliberista è stata assunta da gran parte della sinistra nel mondo come qualcosa di ineluttabile e di accettabile pensa blair pensa tutta la tradizione che è ancora forte oggi per cui in sostanza gran parte non tutta la sinistra gran parte della sinistra però sedicente tale si pone questo problema di accettare comunque la condizione neoliberista come una condizione necessaria e naturale per potere comunque in qualche modo come dire ottenere qualcosa all'interno di questo contesto ottenere qualcosa di sinistra diciamo direbbe nanni moretti ecco cioè ed è un po penosa questa situazione siamo sinceri ecco diciamoci un po la verità è inutile stare a fare le apologie è una situazione penosa e si vede oggi non voglio entrare nel dibattito diretto si vede oggi nella situazione politica dei partiti della sinistra e in particolare del pd in questo momento mi sembra evidente non lo faccio per polemica e dico che però bisognerebbe a mio parere bisognerebbe rifletterci la terza questione eh che secondo me è attuale per quanto riguarda eh Gramsci a contrario è americanismo e fordismo perché non perché ci siano ancora le fabbriche o perché il mondo è esattamente come lo vedeva Gramsci ma perché Gramsci aveva capito una cosa eh secondo me fondamentale aveva capito il nesso stretto che c'è fra l'organizzazione della produzione e il mondo etico morale di allora sessualità puritanesimo eh aveva colto il problema adesso eh se noi lo vediamo a contrario ci accorgiamo che in realtà questo mondo nostro che oggi dove non prevale l'etica ma prevale l'estetica eh il dato di fondo è chiaramente ancora una volta un rapporto stretto fra un'organizzazione produttiva che è diversissima ovviamente da quella delle fabbriche è un'organizzazione della società che è basata sul primato dei consumi sull'individualismo eh sui supermercati come modello eh di vita relazionale eh questi sono i punti tutte cose che una sinistra naturalmente dovrebbe criticare fortemente si dovrebbe organizzare ma questo non avviene a mio parere per vari motivi c'è anche un problema soggettivo ora non la faccio lunga che riguarda anche la forma partita anche di questo non si parla mai secondo me in questa che io chiamo democrazia senza democrazia il fatto che si siano sono si siano formati questi partiti leggeri che in realtà sono arcaici perché sono legate all'idea di un leader e di una plebe acclamante quindi sono arcaici rispetto a alle forme partito di di venti e trent'anni fa non sono il nuovo questo deve essere chiaro questi partiti qua eh sono l'impossibilità strutturale questo sì che voglio dire di pensare il futuro in termini lunghi perché è tutta basata su quello che Platone avrebbe definito il rapsodo eh il politico come rapsodo che deve essere complice del pubblico cioè la richiesta di consenso come una volta si sarebbe chiamato opportunismo oggi è la regola eh eticamente corretta cioè il fatto che tu per avere il consenso in tempi brevi fra l'altro devi giocarti la partita in tempi brevi e questo in in un mondo dove invece i tempi e le visioni generali sono sempre più necessarie perché c'è il disastro ambientale perché oggi secondo me non si può più fare storia politica senza storia naturale questa è una novità anche culturale e e quindi noi ci troviamo in una situazione estremamente contraddittoria e e e voglio dire siamo in questo momento a mio parere eh disarmati cosa posso dire non la faccio lunga quindi la chiudo lì eh l'unica invocazione che posso dare in questo momento è quella di Gramsci pessimismo della intelligenza ottimismo della volontà la volontà come ce la metto ma è chiaro che non bisogna mettersi prosciutti sugli occhi in questo momento in cui c'è un mondo che ha naturalizzato l'individualismo eh quella che Marx eh chiamava l'uso della concezione della società come un mezzo per i fini privati degli individui con la pandemia stiamo vedendo i tragici risultati di questo grazie grazie Maurizio io vorrei anche ricordare che come piccola forza politica e insieme anche ai compagni tutti di di sinistra italiana noi però sosteniamo una campagna per la pubblicizzazione dei brevetti diciamo il fatto che si sottraggano al dominio privato questa è una campagna molto importante per non fare nessun profitto sulla pandemia che è sarà uno dei veri grandi nodi che si devono affrontare ora io sulla base di quanto già molto ben detto darei entrerei un po più anche nel carne eh nella carne nel sangue di quello che vuol dire oggi la mancanza politica di una rappresentanza dei subordinati proprio in termini politici e chiederei a Michele De Palma del sindacato di svolgere una riflessione in questo senso all'insegna di quello che è l'eredità e la lezione di Graucio io grazie innanzitutto buongiorno buon pomeriggio a tutti e a tutti io ehm proverò diciamo così a leggere eh più che della rappresentanza politica che credo diciamo abbia bisogno di una riflessione che riguarda come dire in questo momento eh le forze politiche le forze politiche della sinistra gli uomini e le donne che lo vivono proverò invece a ragionare sul tema invece della rappresentanza all'interno del mondo sindacale facendo riferimento ad un elemento come dire poco eh affrontato nelle discussioni pubbliche eh De Gramsci dentro la storia del biennio rosso è dentro un'impronta che quella storia eh nella storia dei consigli anche se mi posso permettere in dialettica con la storia della mia stessa organizzazione sindacale e penso alla storia dei metalmeccanici perché penso che il tema del dei consigli e della rappresentanza proprio dei subordinati intesa nel senso di un superamento di un'idea di sindacato costruita semplicemente sulla base degli aderenti o di quelli che hanno coscienza della propria condizione. Gramsci apre ad una discussione e come dire ci offre un punto di vista che da questo punto di vista nella storia del dell'ordine nuovo condiziona anche la storia del movimento sindacale italiano che ha caratteristiche diverse da quelle che si vanno affermando e che si sono poi dopo affermate nella storia in altri paesi. Penso alla tradizione delle trade unions come dire anglosassoni o penso alla storia del sindacato corporativo. Ancora oggi il sindacato vive una fortissima dialettica tra la sua composizione degli aderenti e il tema della funzione generale del sindacato come rappresentanza non di semplice somma attraverso la contrattazione collettiva degli interessi di chi come dire si iscrive all'organizzazione sindacale. Noi abbiamo ancora oggi una nel nostro sistema paese il contratto collettivo nazionale di lavoro per esempio il nostro quello dei metalmeccanici coinvolge più di un milione e mezzo di lavoratrici e di lavoratori che è un contratto che non è costruito per gli aderenti è un contratto che è costruito con la partecipazione e con il giudizio democratico col voto in questa fase di pandemia mi ricollego a quello che diceva Iacone in questo momento qualche minuto fa noi nonostante la pandemia stiamo provando a tenere un rapporto diretto con le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici nei luoghi di lavoro facendo le assemblee in presenza perché riteniamo inscindibile la relazione che c'è tra la nostra organizzazione la dialettica tra l'organizzazione sindacale e le lavoratrici e i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e questo è un nodo come dire che questo sì politico io penso che questo sia uno dei temi più delicati del tema del rapporto tra rappresentanza politica e il cosiddetto popolo che si sarebbe dovuto far rappresentare dalle organizzazioni politiche della sinistra e credo che questo tema sia un tema delicato da dover affrontare perché il rapporto tra avere la consapevolezza di essere parte e l'invece essere semplicemente una lavoratrice lavoratore dentro un luogo di lavoro è il punto più delicato della scomposizione a cui noi abbiamo assistito nel corso di questi di questi anni e per questo che penso che le armi critiche il professore Iacono ci diceva che la parte più importante della quale noi dovremmo fare tesoro sono come dire la capacità di lettura di quello che stava accadendo e di quello che poi dopo noi non siamo stati più in grado di leggere nel corso degli anni lo dico perché questo tema ha riguardato la rappresentanza politica della sinistra ma credo sia un problema enorme anche per la rappresentanza sindacale l'idea della negoziazione della contrattazione semplicemente legata all'euro in più o al minuto in più o in meno di lavoro è un elemento che riduce il tema che invece gramsci ci poneva all'interno nel suo ragionamento nel ragionamento che faceva l'ordine nuovo nella relazione con il sindacato e credo che sia il punto più delicato io sono andato a riprendermi per come dire provare a dare un contributo alla discussione di oggi degli atti in cui bruno buozzi in riferimento a quello che succedeva nel 1920 intervenendo all'ultimo congresso dei metalmeccanici della fiom prima del dell'avvento del fascismo durante sul bienio osso ebbe a dire c'erano due strade una era che le rivendicazioni di carattere sindacale giungessero ad un proprio compimento con l'occupazione delle fabbriche l'altra quella che quella storia di occupazione delle fabbriche potesse travalicare dentro uno spazio direttamente politico e lui fa un'affermazione molto precisa nel congresso in come dire in scontro con una parte del congresso perché arriva a dire dice noi a un certo punto abbiamo consegnato noi abbiamo consegnato al partito socialista la possibilità di poter trasformare l'occupazione delle fabbriche non soltanto come un elemento di rivendicazione puramente come dire sindacale abbiamo consegnato alla politica la possibilità di poter decidere che quella occupazione si potresse tramutare in altro e del tutto evidente che la dialettica in quel momento era il tema del cambiamento strutturale diciamo così della situazione del paese nella sua affermazione dice che non c'erano come dire il partito socialista all'epoca non ebbe come dire la prontezza la capacità la direzione di poter assumere quel portato del movimento sindacale come un elemento di cambiamento strutturale della situazione più complessiva politica del paese ecco se mi posso permettere quella discussione lì è la discussione che noi noi intendendo nel rapporto tra il sindacato la rappresentanza diretta delle lavoratrici e dei lavoratori e le organizzazioni politiche della sinistra è un discorso che è rimasto incompiuto e credo che quel ragionamento incompiuto abbia fatto danno a entrambi abbia fatto danno in maniera molto forte sicuramente alla rappresentanza politica ma io penso che questo incompiuto sia un tema che interroga anche la rappresentanza di carattere sindacale perché il rischio di una deriva corporativa o aziendalista anche per il sindacato è un problema col quale noi facciamo i conti quotidianamente nel lavoro che siamo come dire chiamati a fare in una fase molto complessa come quella che stiamo attraversando e io penso che l'altro elemento molto importante che Gramsci ci ha consegnato è la relazione tra lettura tra l'organizzazione del lavoro il professor Iacono vi faceva riferimento e l'organizzazione della società credo che sia lo dico in forma un po' dialettica con quello che diceva il professore l'idea che oggi l'organizzazione industriale del lavoro sia diciamo così in una fase di declino o sia declinata nel corso degli anni rispetto invece a tutta un'altra parte che lei faceva riferimento prima a quello che riguarda la grande distribuzione la distribuzione e così via io credo che invece in questo vedo una natura assolutamente come dire contraria io penso che si sia realizzato invece esattamente il contrario cioè l'organizzazione della produzione non più intesa nel sistema fordista ma in quelle diciamo così livelli di approssimazione successiva con i quali abbiamo dovuto fare i conti delle influenze che ci sono arrivate dal giappone piuttosto che dalle evoluzioni che si sono determinate nella cultura di organizzazione d'impresa degli negli stati uniti d'america ci hanno posto un problema che è molto più complesso da dover affrontare lo dico in riferimento anch'io ci ho riflettuto su quello che sta succedendo nella pandemia non è soltanto una questione di socializzazione diciamo così dei brevetti che permetta quindi di poter vaccinare le persone ma a me ha colpito moltissimo il fatto e lo dico perché mi occupo di un gruppo che in questo momento è diventato tra l'altro un gruppo globale stellantis prima era un gruppo italo americano oggi è un gruppo diciamo così mondiale del fatto che più che un'attenzione alla all'industria alla produzione del prodotto oggi quelle multinazionali l'unico interesse che sono in grado come dire di coltivare e di garantire e quello è il risultato di carattere finanziario mi faccia dire c'è una come dire una rottura ecco questo è il punto nuovo che gramsci non avrebbe potuto analizzare perché all'epoca questo elemento non era così manifesto come quello che noi possiamo affrontare oggi ma il tema vero è la completa come dire separazione tra l'oggetto che possono essere servizi che possono essere prodotti che possono essere merci che possono essere e invece la come dire capacità di poter decidere e di poter come dire generare valore del mondo finanziario in questo c'è la separazione definitiva tra la produzione la produzione e l'estrazione ora del plus valore è come dire i rapporti di forza che si è in grado di mettere in campo dal punto di vista della organizzazione umana organizzazione umana la intendo sia non soltanto nel luogo di lavoro ma fuori dal luogo di lavoro e questa rottura è il punto più delicato e più difficile col quale secondo me il sindacato ma anche le forze politiche dovranno fare i conti perché sto zitto perché noi possiamo fare sciopero dentro gli stabilimenti per chiedere in questo momento si ricorderà durante la prima fase della pandemia noi abbiamo dovuto fare sciopero per fermare gli impianti riorganizzarli e determinare quegli elementi di distanziamento di dispositivi di protezione che garantissero la tutela della salute delle persone ma oggi il punto che noi abbiamo è che gli scioperi che abbiamo messo in campo che hanno portato poi dopo al protocollo che ha come dire visto un accordo tra il governo nazionale le organizzazioni di confindustria le organizzazioni sindacali però non hanno risolto il problema di fondo a cui alludeva il correre al quale ci richiamavano non soltanto le imprese ma mi faccia dire gran parte della classe politica del nostro paese e in quella come dire divaricazione che viene vissuta quotidianamente lì c'era una manifestazione come dire molto diretta molto pubblica ma quella divaricazione quella separazione è quella che noi viviamo eh quotidianamente nell'esperienza sindacale eh che facciamo mi permetto un'ultima battuta e quella domanda quel punto che poneva Buozzi al congresso della della FIOM all'avvento diciamo così di quello che sarebbe arrivato con con il fascismo eh mi fa ricordare anche il dibattito pubblico che in queste settimane che in questi mesi alcune pubblicazioni penso a quella fatta dal l'ex direttore di Repubblica che hanno come dire attribuito a Gramsci eh come dire un una funzione di ruolo al suo silenzio durante il congresso di Livorno eh hanno attribuito a Gramsci una posizione tra virgolette fatemi dire diciamo così come uno che non voleva fare la scessione eh tutti quanti sappiamo che eh Gramsci invece fu il capodelegazione che incontrò gli enimi eh subito dopo per ragionare invece di come affrontare quello che sarebbe stato l'avvento del fascismo. I comunisti non è che non si rendevano conto di quello che stava di lì a poco succedendo nella società eh italiana tanto che nella delegazione eh dei comunisti italiani che andarono ad incontrare Lenin si posero esattamente il problema di come affrontare e uno degli strumenti era il fronte unico. Ecco mi mi fermo qui soltanto diciamo così per dire che forse il dibattito pubblico va in una direzione esattamente opposta al terreno di ricerca anche storico e politico di cui noi avremmo invece in realtà necessità e bisogno. Grazie a Michele De Palma che ha anche come dire sport un po' il suo discorso sulla seconda parte del nostro dialogo in questa coda finale. Io chiederei adesso sempre su questo tema della societività politica Maria Luisa Boccia un contributo. Grazie. Grazie. Io partirei da una considerazione che è molto vicina a quello che diceva ora Michele De Palma. Gramsci pensa politicamente cioè si pone come soggetto politico lui è pensatore politico in una situazione che definisce catastrofe di crisi organica è un altro termine che usa e quindi di possibili probabili molto probabili esiti di involuzione autoritaria che non è solo la dittatura perché per Gramsci l'involuzione autoritaria è anche il restringimento dello Stato nel potere, nella burocrazia, nella macchina del potere e la riduzione della democrazia rappresentativa parlamentarismo che sono i caratteri del suo tempo. In una lettera alla moglie Giulia del 36 lui si pone di fronte a questa situazione la definisce l'incubo in cui vivo per l'enorme quantità di forza che dovrai avere per fare fino in fondo ciò che è giusto e necessario. Allora io ne traggo due considerazioni oltre alla riconoscenza perché Gramsci ha fatto ciò che è giusto e necessario se no non avremmo eredità di Gramsci a cui ricordere. Il primo insegnamento è, lo dico con le parole di una donna invece del suo tempo Virginia Woolf, pensare, pensare, dobbiamo, non dobbiamo mai smettere di pensare cos'è, qual è il mondo in cui ci troviamo a vivere quindi la politica senza pensiero che è comprensione, conoscenza, analisi ma è anche pensare per una trasformazione la rivoluzione come trasformazione di un mondo, di una forma di organizzazione complessiva, sociale, politica, economica ingiusta e appunto che rischia al prezzo di ridurre la maggioranza degli esseri umani oltre adesso diciamo l'insieme del mondo anche la natura e le altre specie ha appunto risorse per il potere dell'elite economica e politica il secondo imperativo è che non c'è soggetto politico, non c'è partito come soggetto politico se non vi sono donne e uomini in carne e ossa che hanno quella stessa passione e disponibilità appunto di trarre con una forza Gramsci l'ha fatto in condizioni disperate di coercizione di pensare e fare ciò che è giusto e necessario questo è quello che non abbiamo detto molto la prima risorsa, la prima cosa che ci manca è questo volete chiamarlo appunto gli intellettuali collettivi, come possiamo ricordare a tante definizioni, a tante individuazioni di Gramsci, questo è l'opposto del liderismo cioè del capo anche come capo teorico che prefigura, è salvifico perché c'è la competenza, c'è la visione oltre che il potere che poi appunto è quello che dispone del potere a cui affidarsi che invece è la dimensione in cui adesso si affida la possibilità di uscire dalla situazione catastrofica legge Draghi l'uomo salvifico perché sa con questo ricorso alla competenza oggettiva, al sapere oggettivo mentre invece quel pensare e pensare che dobbiamo è compito di ognuno e di tutti e di tutte è compito individuale e collettivo per Gramsci è una definizione che riprende Cesare Lupolini, un altro grande pensatore marzista comunista compito individuale e collettivo, questo dobbiamo ricostruire le condizioni e anche le forme organizzate per svolgere questo compito di cui la produzione di una cultura e di un pensiero è fondamentale e qui si viene alla questione dell'egemonia che per Gramsci l'egemonia è una forma in cui la società nel suo insieme si organizza e si esprime si esprime anche nella dimensione conflittuale c'è lotta per l'egemonia se ci sono soggetti politici plurali che appunto sono costruiti sull'organizzazione di visioni, di interessi, di condizioni, di capacità di analisi e conoscenza della materialità delle vite e di prefigurazione di altre forme di vita e di organizzazione ovviamente della vita e della convenza umana bene, quindi l'egemonia intanto non è un concetto fermo, statico no, c'è lotta e c'è una parte che tende a prevalere la lotta per l'egemonia è una lotta in cui direzione, capacità di direzione, di governo complessivo e anche forza di prevalenza trovano un equilibrio per cui non c'è il dominio poter semplice ma c'è appunto un dominio che si esercita come adesso nella cultura biopolitica da Fogoltiano è la governamentalità cioè io per prima, io singola, ognuno di noi e tutti insieme siamo i primi a realizzare ciò che l'imperativo del potere economico-politico detta e prevede ed è quello che stiamo facendo nella pandemia il richiamo al comportamento disciplinato per cui le uniche, perché non abbiamo ancora risolto? perché siamo degli indisciplinati individualisti appunto si fa ricorso e invece appunto il conformismo il conformarsi a un comportamento cioè non è stato fatto nulla non è vero appunto l'economia non si è fermata l'imperativo è non fermare l'economia perché quale che sia la forma quella è la condizione per riprendere, sopravvivere ritornare alla normalità quale che sia ma quella condizione continua ad operare e poco importa se poi una delle cause principali per cui il contagio continua a avere quelle dimensioni che abbiamo però c'è anche questo appello appunto al conformismo, al conformarsi bene invece per Gramsci appunto per le classi subalterne per chi non ha il potere l'unica possibilità di avere un'egemonia quindi di governare che ci sia una società che corrisponde alle proprie esigenze e alla propria idea di società alla propria concezione della società è quella invece di organizzarsi e di produrre coscienza coscienza di sé coscienza della realtà in cui si ho consapevolezza sapere diffuso collettivo Gramsci ha una vocazione pedagogica nel senso migliore del termine la formazione la formazione è fondamentale e la formazione ha tanti apparati tante modalità e avere gli apparati autonomi di una formazione della coscienza collettiva e anche individuale dei singoli che partecipano a questa organizzazione politica è un aspetto fondamentale a me mi risulta io che dirigo il centro di ricerca e di iniziativa culturale che oggi quale che sia tutte le sigle della sinistra tutti i partiti alla ricerca alla formazione noi facciamo molto lavoro di formazione non dedicano tempo organizzazione strutture risorse economiche niente quello che facciamo noi non interessa per esempio non abbiamo rapporti strutturati e non siamo l'unico evidentemente c'è una una rete invece c'è di organizzazioni culturali autonome o di sinistra che potrebbe essere potrebbe fornire una risorsa importante e invece questo non lo facciamo bene io credo che l'egemonia è se è un modo di vivere civile personale collettivo noi la domanda che ci dobbiamo porre è quali sono oggi gli apparati egemonici che creano appunto questa conformazione a una concezione della società della politica dello Stato dell'economia non sono più i partiti non solo della sinistra ma sono appunto siano una situazione di partiti no sono appunto gli apparati che siano di burocrazia del Stato che siano di burocrazia appunto economiche economico-finanziarie i grandi centri di potere internazionali delle finanze e che ovviamente orientano anche la la produzione delle merci e le forme del consumo e le modalità del consumo la circolazione del consumo e sono anche appunto le istituzioni nella che in qualche modo di organizzazione della società che opera adesso nel nostro mondo contemporaneo l'informazione i media la comunicazione hanno un ruolo fondamentale in questo che producono appunto senso comune non coscienza come contrastare questa egemonia senza avere una i proprie forme organizzate di autoproduzione di coscienza questa è la domanda fondamentale possiamo rifare i partiti del novecento o dobbiamo e possiamo anche inventare nuove forme che codispondano di più anche alla condizione attuale io sono una femminista noi abbiamo prodotto cambiamento e trasformazione la ampia nei rapporti e nelle relazioni civili personali sessuali politiche senza creare un'organizzazione femminista che risponda più o meno a un partito che risponda sia avvicinabile a quello però le risposte possono essere diverse oggi il laboratorio sociale della politica che viene fatta in prima porzione offre una ricchezza di pratiche e di esperienze a cui rivolgersi però bisogna prestare attenzione bisogna rivolgersi a questa realtà e coinvolgerla nella costruzione del soggetto politico io mi fermo con una semplice notazione Gramsci è un rivoluzionario mi riferisco appunto alla polemica di Bobbio degli anni settanta a cui faceva Gramsci sì è un rivoluzionario Gramsci non è per un riformismo debole non è per il compromesso in cui ottieni quello che puoi e non metti in questione l'ordine complessivo l'ordine dato ripeto simbolico cioè di cultura e di politico economico civile però la sua idea di rivoluzione non ha niente a che vedere con la conquista del potere o con la dittatura del proletariato lui per esempio non ha mai smentito il suo apprezzamento per i consigli di fabbrica e i soviet ma perché quelle sono forme di autoorganizzazione di partecipazione in cui tu non sei solo forza lavoro al lavoro per l'appunto comandata ma sei auto anche lavori per modificare lì nel luogo dell'esperienza il modo di organizzare la produzione e l'abbiamo avuto negli anni 60 70 no nel sindacato delle esperienze di consiglio dove sono finite troncate l'eredità di Gramsci finisce negli anni 60 poi nonostante gli anni 70 siano anche un decennio di riforme importanti la sanità il servizio sanitario nazionale ce lo dobbiamo ricordare poi smantellato però lo statuto dei lavoratori poi appunto anche quello colpito nell'essenziale però non c'è più questa dimensione della politica larga che organizza e Gramsci lo vide subito il rischio perché si deve a Gramsci la distinzione tra il partito apparato e il partito che è come agire collettivo come azione organizzata partecipata il partito se il partito apparato prevale diventa un pezzo della macchina pubblica dello Stato cosa che puntualmente è avvenuto di produzione di ceto politico questo abbiamo e il fatto a chiudo che oggi si parli di ricostruire la sinistra come un'alleanza un'alleanza tra le sigle per quanto aperta si dice no inclusiva per a fini elettorali la dice lunga perché dice che appunto oggi la forma di partecipazione noi richiediamo fondamentalmente è quella del voto partecipare al rito appunto quello che Gramsci dice è il parlamentarismo al rito della scelta della selezione dell'indicare la propria preferenza e poi delegare ha un ceto che ha il compito appunto di governare dove però appunto il governo politico è sempre più subalterno al governo tecno economico grazie Maria Luisa Boccia per questo intervento anche molto denso e passerei la parola a Fabio Mussi mi sentite sì mi sentite sì siccome ci incontriamo a distanza esattamente perché c'è la pandemia e il virus intelligentissimo virus come ricordava Maurizio che saluto ricordando i nostri anni lontani a Pisa giustamente è uscita fuori la questione dei brevetti no? che a me sembra una questione enorme condivido quanto è stato detto a sentire quel che si dice dovremmo ritenere che il buon Sabin fosse un gran coglione aveva una miera d'oro in tasca e decise che non brevettava la sua invenzione del vaccino contro la poliomelite che era un disastro mondiale all'epoca perché quello era un bene che apparteneva all'umanità un modo di pensare così oggi sembra archeologia ieri Boris Johnson ha detto l'avidità capitalistica è il vero motore delle cose il resto sono chiacchiere il problema è che non c'è nessuno che con altrettanta energia dica esattamente e faccia esattamente il contrario ora la domanda di Luca ci serve Gramsci per ripensare un soggetto delle classi subalterne Gramsci ci serve e tutto sta nel volerlo e qui trovo che la volontà sia da un po' di tempo a questa parte assai difettosa in questo lungo doloroso addio della sinistra che è cominciato in Europa negli anni 90 sostanzialmente ci sono dei dettagli degli aspetti che via via mi hanno colpito allo stomaco per esempio Gramsci parla sempre ma non solo lui di classi subalterne classi dominanti questo plurale è diventato classe la classe dirigente il problema è della classe dirigente non è più Gramsci sembra un dettaglio è Pareto Mosca è la circolazione delle elite sono gli eletti è il ceto politico quindi il problema di una trasformazione della società e di una diversa forma del potere è diventato una questione essenzialmente di ristrette elite che non esercitano come ricordava Luisa poco fa neanche più alcuna forma di egemonia ora alla fine degli anni 70 ci fu la fiammata anti-gramsciana come ricordava Luca perché perché nel 75 era uscito presentato a Parigi l'edizione critica dei quaderni di Valentino Geratana io ero andato lì per rinascita ne avevo scritto lungamente un pezzo che si titolava Grammici secondo i suoi pensieri perché fino a quel momento avevamo avuto pregevoli edizioni a partire da quella piuttosto purgata di Togliatti nel 1949 ma che estraevano dei quaderni parti frammenti che ricostruivano arbitrariamente Geratana aveva messo in ordine con un straordinario apparato di note l'opera di Grammici però i dei Grammcianieri non hanno grande fortuna perché forse in questo momento l'autore più noto e studiato in mezzo mondo del novecento italiano è esattamente Antonio Grammci Maurizio ricordava la società gramsciana di New York ma ho potuto toccare con mano che moltissime scuole università dibattiti pubblici si studia e si discute di Grammci dall'Australia al Sud America degli Stati Uniti al resto d'Europa perché evidentemente è qualcosa della sua teoria che funziona la cosa che ha funzionato perfettamente la teoria dell'egemonia a rovescio naturalmente si dà egemonia quando l'ideologia della classe dominante diventa un dato naturale diventa senso comune e l'ideologia liberista che comincia a essere costruita con Tacher e Reagan all'inizio degli Andanta poi elaborata radicata sviluppata trasformata in dato economico sociale civile cultale etico estetico alla fine è stata assunta come un dato di natura o si è aderito o ci si è rassegnati ora Gramsci spiega certamente molto del PCI di questo grande occidentale del movimento comunista internazionale ne spiega i tratti originari naturalmente Gramsci ha dovuto molto combattere già all'inizio Gramsci aderisce naturalmente alla formazione del PCI non è che è un silente dissidente però capisce e lo scrive che quella è una tragica necessità quella di scindere del movimento socialista è una tragica necessità dovuta all'irrompere di eventi mondiali di straordinaria portata come la rivoluzione sovietica tuttavia capisce rapidamente che lì c'è qualche aspetto molto critico dall'inizio e poi qualcosa comincia a degenerare famosa il suo articolo la rivoluzione contro il capitale la rivoluzione avviene dove Gramsci fa escluso cioè in una formazione economico sociale asiatica come come scrive ne so i testi diciamo e non in una delle capitali del capitalismo più svato ma guida è vero la delegazione che incontra l'enni ma nel 26 spedisce la lettera che Togliatti non recapiterà mai scrive al Poliburo del Pcus e scrive cari compagni voi state ristruggendo l'opera vostra ma nei quaderni è evidente che non c'è nessun tratto di quella forma particolare ideologia di Stato che diventò con Stalin il marxismo linetta leninismo materia che come commentò Alicata non esiste diciamo e non so Stalin Grammici parla di Stalin quando parla di Stalin nei quaderni lo chiama Bestarione certo c'è l'assonanza con Bessarionovic e scrive Bessarione per passare la la censura però Bessarione è anche il religioso che viene da Bisanzio è che a metà del Quattrocento fa l'ultimo tentativo di riunificazione della Chiesa d'Oriente e della Chiesa d'Occidente parebbe proprio la figura in primo piano con l'abito lungo della flagellazione del Cristo di Piero della Francesca Bessarione ci prova ma Oriente e Occidente le due Chiese non ci riunificheranno mai più e Gramsci capisce che la Chiesa d'Oriente e quella d'Occidente non possa riunificarsi perché la sua teoria dell'egemonia della rivoluzione intellettuale morale della trasformazione di una società attraverso i suoi tratti culturali etici eccetera è difficilmente compatibile con gli sviluppi a est quindi spiega una parte dell'originalità del PC che pur essendo parte del Movimento Comunista Internazionale però coltiva una sua identità quello che voglio dire è che sarebbe limitato però se noi pensassimo Gramsci come fanno molti solo in rapporto al PC e alla sua storia per quanto si è scritto moltissimo in queste settimane in questi mesi quest'anno del centenario del PC io recentemente ho presentato un libro di due non bolshevichi diciamo sorgi e pendinelli che aprono su Gramsci e concludono dicendo se la sinistra vuole rilanciarsi deve ripartire a Gramsci certo non sono due rivoluzionari però hanno capito una cosa importante però non si può Gramsci collegare solo alla nascita della storia del PC è un autore che guarda a 360 gradi al mondo grande e terribile come avete scritto nel titolo di questo nostro incontro e che studia studia pensa pensa alla trasformazione straordinaria del capitalismo con l'americanismo con il fordismo pensa ai limiti del risorgimento della formazione in Italia Unita pensa ai regimi autoritari come regimi di massa pensa alla questione meridionale grandi questioni naturalmente che si impastano con la vicenda del PC ma che sono persino più più larghe e pensa alla questione dei partiti politici e del loro rapporto con le masse io in previsione di questo nostro incontro mi è affiorato sono da ricercarlo alla memoria un passo da brivido che è nei quaderni titolati passato e presente da brivido perché Grammici si riferisce alla vicenda prefascista dell'Italia Unita e anche al fascismo e dice carattere del popolo italiano che si può chiamare apoliticismo questo carattere naturalmente è delle masse popolari cioè delle classi subalterni negli strati superiori o dominanti vi corrisponde un modo di pensare che si può dire corporativo economico di categoria e che del resto è stato registrato nella nomenclatura politica italiana col nome di consorteria una variazione italiana della cricca francese della camarilla spagnola una varietà di questo apoliticismo popolare è il pressappoco della fisionomia dei partiti tradizionali il pressappoco dei programmi e delle ideologie perciò anche in Italia c'è stato un settarismo particolare non di tipo giacobino alla francese o alla russa il settarismo degli elementi popolari corrisponde allo spirito di consorteria nelle classi dominanti non si basa su principi ma su passioni anche basse e ignobili e finisce con l'avvicinarsi al punto d'onore della malavita e all'omertà della mafia della camorra questo apoliticismo unito alle forme rappresentative specialmente dei corpi elettivi locali spiega la deteriorità dei partiti politici che nacquero tutti sul terreno elettorale da qui una selezione alla rovescia ora questa storiaccia che è intrinseca alla formazione dell'Italia moderna ha avuto una sua interruzione con i grandi partiti di massa padri della costituzione repubblicana usciti dalla lotta di resistenza al fascismo croce pensava che il fascismo fosse stato una parentesi oggi forse viene il dubbio che la parentesi è stato il ventegno post bellico quello che ha portato alle acquisizioni che venivano ricordate prima insomma sistema sanitario nazionale sono dei diritti ai lavoratori cioè cambiamento profondo dei rapporti sociali dopodiché è cominciato il suo lento smantellamento sotto le svariate dizioni di volta in volta costruite come un bricolage diciamo dell'aziendalismo dell'efficienza eccetera e negli anni che succedono ai 70 comincia comincia un un arretramento un arretramento che la sinistra ha prima subito e poi persino condiviso quello che chiamiamo finance capitalismus turbo capitalismo ha avuto un impulso politico dalla destra che si è concluso negli Stati Uniti e in Europa negli anni 90 Stati Uniti democratici in Europa allora 13 su 15 paesi governati dalle sinistre socialiste socialdemocrate è stata una resa culturale è stata una resa culturale che ha provocato un'enorme quantità di danni tant'è vero che a un certo punto finito l'impulso politico che è terminato forse con la banca universale l'abolizione della Glass-Tigal da parte di Clinton che poi ha avuto tutti i suoi emuli in Europa dopodiché il sistema finanziario che oggi ha uniformato di sé diciamo l'intero sistema delle relazioni è entrato in una sorta di autodichia cioè si autoregola ha deciso da solo delle proprie regole ed è diventato un apparato misterico che nessuno conosce più uno dei limiti da un certo punto in poi del marxismo italiano e che è diventato un marxismo di esegesi dei testi di Marx anche di Gramsci ma ha finito di essere un marxismo di indagine sui cambiamenti del sistema del capitalismo della società dell'economia eccetera e bisogna tornare al mondo reale ora anch'io mi alimento dell'ottimismo della volontà anche perché la ruota gira io nonno che non vengono per eme dal meccanico un po' anarchico repubblicano mazziniano poi comunista però non gli piaceva quello Stalin lì nel 1938 al massimo del trionfo del regime fascista portato sulle ali dell'entudiasmo delle folle delle avventure coloniali per il riarmo eccetera c'era fatto una sua dottrina diciamo se il mondo qui davanti deve passare gli passò davanti con i grandi scioperi del 43 e poi con la resistenza e anch'io penso che alla fine perché quando noi parliamo delle classi subalterne forse è bene non dimenticarlo oggi noi parliamo della stragrande maggioranza degli uomini e delle donne appartenenti al genere umano della stragrande maggioranza che sono subalterni il fatto che condividano le idee dei dominanti una parte grande di loro non tutti naturalmente perché il mondo è pieno di focolai di protesta e di resistenza lo sciopero dei dipendenti di Amazon di questi giorni è un segnale molto molto importante ma a me pare di vedere che per esempio questa crescita diceva Maurizio la grande novità è che storia politica e storia naturale oggi non sono più separabili questo non valeva per il tradizionale movimento comunale socialista non valeva non era così oggi sono inseparabili è un'enorme novità ed è una forma di coscienza di questa novità che sta prendendo piede in molte parti del mondo quindi io non penso affatto che la storia sia finita penso che la terra di qui davanti prima o poi deve passare devono provare a dargli un'acceleratina ecco riponendoci formalmente la questione non come si va alle prossime elezioni oddio è importante anche questo perché se non vincessero Salvini e Meloni sarebbe meglio come si va alle prossime elezioni importante anche questo ma come si rimette in pista un pensiero lungo e quindi nelle forme nuove che sapremo inventare una soggettività nuova che rappresenti esattamente la stragrande maggioranza del genere umano cioè le attuali classi subalterno grazie ora io vi chiederei un secondo passaggio molto più ristretto nei tempi a cui accludo per iniziare una sola considerazione e cioè veniva citata la coda degli anni settanta e molte volte si parla del PC estraendolo dalla crisi generale che ha investito le forme della rappresentanza politica e che è stato un disegno ben preciso di riassetto dei poteri cioè a un certo punto il neuroriberismo che cosa è stato è stata la scelta innanzitutto di sostituire ai partiti ai sindacati agli intellettuali anche a forme tradizionali dell'autorità da un lato il primato dell'impresa e dall'altro l'intrattenimento con gli strumenti dati dalla sempre crescente industria dell'informazione io su questo ci ragionerei un po' sul fatto che la chiudo qui rispetto alla prima parte della nostra discussione sul fatto che oggi è molto più difficile anche se abbiamo una stragrande maggioranza di subordinati avere le risorse conoscitive diffuse cognitive perché sono state sradicate queste innanzitutto e noi per questo è tutto più complicato non solo perché si sono messi tante volte i proletari come dire o quelli che una volta si sarebbero detti salariati in competizione tra loro ma anche perché gli si sono tolte le risorse culturali alle quali fare riferimento ora io credo che diceva Fabio Mussi non chiudiamo la vicenda di Gramsci nel PC d'altra parte sarebbe interessante capire quanto del PC era quanto di Gramsci era rimasto nelle classi dirigenti del PC una volta finita quella funzione storica che come dire si reggeva sulla sintesi compiuta da Palmino Togliatti che a un certo punto va in crisi per ragioni storicamente determinate perché il fatto insomma che nel giro di pochi anni poi di un decennio sostanzialmente dopo la svolta quella tradizione e quel modo di vedere le cose si erode e lo si svende di sostanza qualcosa vorrà dirci vorrà dire anche che forse quel pensiero non era poi così penetrato così profondamente o che comunque ha subito incrostazioni di varicazioni di diverso tipo io vi chiederei invece ecco appunto quanto era rimasto ad un bilancio nell'esperienza di questo partito così significativo e anche diciamo così da di scegliere un'idea ecco un punto dal quale ripartire vi chiederò però di fare uno sforzo in mane cioè di dirlo in pochi minuti perché altrimenti l'attenzione è scema ed è bene invece tenerla prego a voi chiederei possiamo ripartire forse con l'ordine che abbiamo adottato prima quindi io chiederei al professor Iacono intanto di intervenire grazie Luca ci sarebbero moltissime cose da dire anche cose anche molto interessanti che sono emerse ovviamente diciamo faccio l'elenco della spesa i tempi sono stretti e non voglio allora io solleverei rispetto a quello che è stato detto tre cose primo sì a proposito di ottimismo e la volontà che ho sollevato e che poi ha ripreso giustamente Fabio beh questo sciopero di Amazon ci dà un'indicazione precisa che si può fare mentre fino a ieri si pensava che a causa della disseminazione dell'organizzazione del lavoro che tutte le fabbriche non ci sono più sembrava impossibile evidentemente qui si pone invece qualcosa di estremamente interessante si può fare cioè delle lotte anche perfino planetarie si possono organizzare e non mi scaroggerei per questo perché io penso sempre a come deve essere stato organizzare i sindacati nella seconda metà dell'Ottocento alla fine dell'Ottocento come sarà come sarà stato difficile organizzare le lotte in quegli anni quindi non è questo che ci deve scoraggiare chiaramente se uno entra nei contesti storici si rende conto che non è l'unica epoca difficile la nascita dei sindacati e la lotta per le otto ore non fu una roba che venne così ve le immaginate voi le riunioni internazionali fatte dagli operai che arrivavano con sacrifici e parlavano lingue ma non scherziamo ecco quindi non è questo il punto questa lotta di Amazon ci dice qualcosa di interessante ecco come dire ricollega l'ottimismo della volontà a un allentamento del pessimismo dell'intelligenza io gli darei importanza ecco è un primum proprio perché ha questo carattere internazionale la seconda cosa è che secondo me c'è un problema che andrebbe affrontato anche sul piano economico sarebbe bello fare una discussione sulla questione dell'organizzazione del lavoro eccetera ora non è possibile però io ricordo sempre che Luciano Gallino diceva correttamente ai tempi di Camillo e Adriano Olivetti padre e figlio l'imprenditore aveva una responsabilità sociale oggi diceva Gallino l'imprenditore non deve più avere una responsabilità sociale ha responsabilità verso gli azionisti e questo è interessante perché non se ne parla mai perché il sistema delle azioni permette a ciascuno di noi a chi può di investire e guadagnare dei soldi senza andare a vedere da dove vengono se vengono dallo sterminio di qualche persona da una distrazione ambientale da una cosa corretta questo è un sistema terribilmente e criminalmente geniale che nessuno mette in discussione e che invece secondo me andrebbe un po' ripensato ma non è tanto questo che volevo sottolineare io invece invoco una cosa una cosa che è questa che non è se volete non è direttamente politica o immediatamente politica ma forse dovremmo anche sforzarci di inserire cose non politiche nel politico torniamo un po' a una dimensione culturale e sociale della politica e cioè io ho questa sensazione che c'è prima parlavo di supermercato di modelli che prevalgono la verità vera è che sul piano culturale oggi c'è un'enfatizzazione delle emozioni io non ho niente contro le emozioni giusto averle reinserite o risollevate rispetto a quella che era alla vecchia separazione con la ragione però quello che si sta perdendo sono le passioni cioè il tempo lungo delle emozioni non c'è più e questo è pericolosissimo perché è come diceva Luisa è il portato del conformismo perché le emozioni si ripetono e funziona con questa ripetizione del nuovo continuo che ha semplicemente la logica della dipendenza da una droga quindi enfatizzare continuamente le emozioni significa semplicemente ripetere continuamente una condizione che è quella che noi vediamo rispetto alla crisi della pandemia io non voglio fare facile non voglio ma questo ho bisogno della pericena io lo capisco non sono un moralista ma però a qualcosa significherà rispetto al fatto che l'emozione che si ripete in modo conformistico ha la meglio sulle passioni e questo vale per la politica perché nella politica è finita la passione ma la passione è il tempo lungo è il tempo dell'arte del sapere della conoscenza lungo quello che progetta che guarda lontano che sta nel dramma del rapporto che c'è fra un progetto e la contingenza e che è il problema della politica e della conoscenza politica questo si è perso ma si è perso perché alle classi dominanti va bene così va benissimo così al limite diventa solo una questione di ordine pubblico ci sono i movimenti sovranisti che incorporano lo scontento sociale ed economico e in qualche modo si può gestire così come si possono gestire gestire tossicodipendenti li parcheggi andi ci fai pure un affare io credo che oggi bisogna ritornare a una forma partito queste le cose non ritornare nel senso del passato sicuramente come diceva Luisa cioè con delle forme nuove però quello che deve contare sono delle organizzazioni che assicurano il tempo lungo collettivo dei progetti che non c'è più o meglio lo specifico non è che non c'è più ce l'hanno soltanto i poteri forti il grande padronato che però gestisce questo per interesse privato per cui danni ambientali il fatto che oggi forse siamo in una situazione tale per cui il danno ambientale può essere irreversibile rispetto allo stesso capacità che è il capitalismo di sapersi rivoluzionare e cambiare lo vedete che oggi la pubblicità sono tutti oggetti come dire sostenibili compatibili ecologici sembra una barzelletta ma probabilmente siamo arrivati a un punto tale per cui la stessa necessità che sa fare il capitalismo di cambiare la sua base tecnica e produttiva non fa in tempo rispetto al disastro ambientale qui si apre un discorso enorme che è una questione anche di capacità di sapere organizzare il tempo il tempo quindi il tempo del desiderio il tempo lungo forse sarebbe interessante forse ripensare un pochino in modo trasversale questa questione grazie scusate grazie quello che diceva Alfonso Maurizio Iacono è sintetizzabile in un'espressione gramsciana riconquistare la dimensione della guerra di posizione lungamente sotterrata ora ridare la parola a Michele delle palme che mi pare si accordi benissimo con le cose che sono appena state dette io vorrei collegarmi all'ultima cosa dette da Iacono ma anche a quello che diceva Maria Luisa Boccia vi confesso un fatto personale nel senso che molti di voi non sanno io non sono un metalmeccanico non ho fatto l'operaio in fabbrica non sono un impiegato di un'azienda metalmeccanica sono arrivato alla FIOM per una scelta che la FIOM ha nella sua costruzione del gruppo dirigente perché è un misto di lavoratrici e lavoratori che crescono fanno i delegati e arrivano a dirigere l'organizzazione sindacale e poi questa organizzazione sindacale fa anche delle scelte cioè pesca dal movimento studentesco piuttosto che da quello politico e questo è un punto molto delicato perché è esattamente la rappresentazione di una scelta di essere un sindacato uso questa espressione politico non nel senso dello schieramento in relazione alle organizzazioni della rappresentanza politica perché come tutti sappiamo nel corso degli ultimi anni questa relazione fa fatica a trovarsi nelle relazioni dirette io ringrazio moltissimo Arturo e Luca che mi hanno coinvolto in questa discussione anche perché una delle prime occasioni che ho avuto di potermi confrontare con loro in particolare con Arturo Scotto è quando abbiamo fatto questo lavoro io so se si riesce a vedere ma è una inchiesta che abbiamo fatto come FIOM coinvolgendo moltissimi ricercatori universitari moltissimi precari tra l'altro della ricerca nel mondo dell'università e abbiamo fatto un'inchiesta che ha coinvolto decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori metalmeccanici e delegati dentro gli stabilimenti perché abbiamo provato a costruire quella che un tempo si chiamava la conricerca cioè costruire una ricerca congiunta tra una parte del mondo dell'università perché oggi il professor Iacolo faceva riferimento al fatto che la citava Gallino ma oggi uno dei punti più delicati è che il mondo dell'università come dire ha applaudito quando hanno conferito la laurea onoris causa all'ex amministratore delegato di FCA quando ha comunicato a Perfis Verbis che non era nelle condizioni di poter fare l'auto elettrica perché costava troppo è uno degli scontri più duri che hanno avuto la mia organizzazione sindacale noi la FIOM con quella come dire idea non era soltanto un tema diciamo così legata a un tema contrattuale ma quello scontro che ci fu tra la FIOM e l'amministratore delegato e la FCA in quel periodo corrispondeva ad un'idea precisa cioè quale idea di società rispetto al futuro quale tipo di mobilità noi dicevamo che bisognava produrre già da allora auto che avessero determinate caratteristiche io nel mio ufficio ho un ritratto di un giornale degli anni 90 il cui titolo è FIAT pronto l'accordo di programma per l'auto elettrica erano gli anni 90 allora quello che voglio dire è che fatemi dire la politica non si avvalsa dell'intelligenza collettiva del lavoro il problema più grosso che io trovo diciamo così nella nella politica oggi è che anche quando uno vorrebbe dare un contributo come dire diciamo così quali sono gli spazi di partecipazione di discussione di costruzione di un ragionamento possibili dentro una situazione di questo tipo e guardate in un cambiamento della condizione sociale delle persone perché oggi non è il caso di discuterne ma pensate a come stravolta la vita di una lavoratrice o di un lavoratore dentro la pandemia che magari ha avuto la fortuna tra virgolette la fortuna di poter essere remotizzato nella prestazione lavorativa a fronte di un altro invece che è stato costretto a lavorare nell'area del Bergamasco del Bresciano in pieno della pandemia paradossalmente quella condizione che sembrava una condizione emergenziale in questo momento sta diventando una condizione in cui il tema del tempo Iacono faceva riferimento al tema della riduzione dell'orario di lavoro il tema del tempo e dello spazio sono due questioni enormi per chi ha il lavoro e anche per chi non ce l'ha il lavoro cioè la condizione fatemi dire dimessa a valore della condizione sociale delle persone il capitale lo fa in maniera straordinaria le imprese lo fanno in maniera straordinaria è la politica che non lo riconosce la politica quando dico la politica vi chiedo scusa la rappresentanza politica nel corso degli ultimi anni non ha compreso quello che era invece il suo più grande valore aggiunto e quella separazione che la via bleriana diciamo così a un certo punto ci ha offerto come terza via in realtà era il più grande vicolo cieco ma in realtà la cecità non era di quelli che erano come dire i subalterni la cecità era quella della politica perché da lì poi dopo non è più uscita la storia della sinistra nel corso degli ultimi anni e io penso perché per quanto uno ci possa mettere un elemento di volontà ecco il tema del volontarismo fatevelo dire da uno che ha scioperato in cinque allo stabilimento di Pomigliano quando abbiamo scioperato in cinque quando l'azienda aveva comandato lo straordinario e tutti gli altri erano in contratto di solidarietà c'era una casa in casa integrazione noi abbiamo detto caspita richiamate quelli che sono a casa al posto di far farlo straordinario a quelli che sono in fabbrica scioperanno in cinque allora è chiaro che sugli atti di volontà fatemi dire li abbiamo messi in campo ma quegli atti di volontà se non incontrano come dire la questione generale e qui riprendo Maria Luisa Boccia cioè il tema di quello come diventa narrazione pubblica e poi dopo non dico egemonia ma fatemi dire almeno un altro punto di vista il problema che noi abbiamo oggi è che l'altro punto di vista che in nuce si è manifestato nello sciopero di Amazon ma che in tanti situazioni diciamo così di asimmetria che le persone dimostrano manifestano nella propria condizione sociale o di lavoro non trovano la politica io quando ero piccolo ecco e così svelo diciamo così il mio passato io sono come dire un ragazzo che è cresciuto in un paese di provincia mio padre era disoccupato mia madre casalina io se ho imparato l'ho dovuto ad una piccola sezione di partito nel mio paese non eravamo negli anni 50 io sono nato nel 76 e grazie a quella storia lì alla storia dei movimenti studenteschi all'associazionismo alla storia della politica di questo paese alla parte migliore di questo paese dal mio punto di vista ho avuto l'opportunità di essere una persona diversa da quella che la storia mi avrebbe come dire individuale mi avrebbe potuto consegnare è per questo che io sono grato alla politica perché sarei una persona diversa senza quell'esperienza lì ecco io penso che il problema che c'è quello che ritrovo nell'esperienza tra virgolette politica della FIOM con questo chiudo è che noi dobbiamo avere il dono della riscoperta del rapporto con le persone e lo dico nella fase della pandemia per noi fare le assemblee torno a dirlo durante la pandemia nel rapporto con i lavoratori certo ci sono cose di plexiglass tra noi e i lavoratori ci sono le mascherine non ti puoi guardare negli occhi devi tenere due metri di distanza ma vi assicuro che andare a fare le assemblee in questo momento è un elemento che anche da un punto di vista sentimentale costituisce un elemento di connessione che altrimenti quelle lavoratrici e quei lavoratori sarebbero soli fare le assemblee sulle piattaforme informatiche per i lavoratori remotizzati è un altro strumento in cui la tecnologia la metti a disposizione per poter provare a condividere scelte condizioni a rimuovere quell'ostacolo a quella condizione individuale che credo sia il punto più delicato per la costruzione di quella coscienza senza la quale diciamo così noi non saremmo nelle condizioni di poter ragionare del tema della rappresentanza bene scusate un secondo eccomi qua io darei adesso la parola ancora a Maria Luisa Boccia che è stata tra l'altro citata in causa sì io sono molto d'accordo con quello che ha detto ora Michele e anche con con Alfonso su un punto in particolare con Alfonso le emozioni hanno sostituito le passioni io ho parlato per prima di passione per Gramsci che gli ha appunto permesso di svolgere quel compito che si era proposto la passione la radice della parola è patire cioè la passione come risorsa soggettiva investimento è nasce da qualcosa che si patisce l'elemento più universale più comune patisci quello che diceva anche adesso Michele patisci la condizione in cui nasci non la scegli la ricevi la patisci ne dipendi passione della differenza abbiamo detto noi del femminismo della differenza vuol dire rovesciare appunto in coscienza quella patimento quella condizione che ti determina che decide di te senza questo dovesciamento ecco grandi passioni collettive nel novecento si è parlato di passioni anche appunto negative però la passione c'è sempre un elemento anche un risvolto come dire che può essere negativo cioè puoi cadere preda della passione e quindi però senza questo elemento non c'è presa di coscienza e qui davvero la questione come ci si mette relazione con le passioni che animano le società le società contemporanee perché questo allora ci sono io vedo altre due due modalità sono fondamentali parola dare parola a quella passione che è già un modo di trascenderla nominarla darle un nome appunto passione della differenza è di nominare la differenza chi sono io donna non dipende più dal significato che è stato dato all'identità femminile e pratiche che sono radicate lì dove le passioni il patimento c'è e la passione può insorgere insorge i luoghi dell'esperienza e Michele parlava dei luoghi del lavoro della fabbrica io noi abbiamo detto i luoghi anche del privato le famiglie luoghi di grandi patimenti e grandi passioni mancate in questa fase in cui si subisce più che essere in grado di ridare un significato modificare le relazioni e questo è così nella dimensione appunto ma persino nella culturale della formazione il patimento se ne parla male della condizione degli adolescenti dell'isolamento del costo umano personale anche della didattica a distanza però lì c'è un problema invece appunto di parlarne in altro modo se ne parla male perché se ne parla solo per in qualche modo contrapporre quella sofferenza al punto disciplinamento e creare questa tensione al limite arriva a negare che ci sia un problema e un rischio visto che quello che si potrebbe fare non è stato fatto perché trasporti recupero di altri spazi per l'insegnamento cioè tutto quello non è stato fatto tracciamento per tempo forme di individuazione dei focolai per tempo e non quando già ormai sono esplose tutto questo quello che il sindacato ha imposto nei luoghi di lavoro nella scuola non è stato fatto perché appunto andava fatto da parte delle istituzioni pubbliche dello Stato regioni comuni Stato centrale però lì c'è una germe di passione che sta venendo fuori in questi movimenti che non investe solo presenza o distanza che cos'è apprendere che cos'è insegnare che cos'è la relazione pedagogica educativa movimenti come priorità dalla scuola questa questione se la pongono e si rimettono in rapporto anche con sperimentazioni storiche su questo di un altro modo di insegnare quindi l'ho detto prima in realtà c'è una ricchezza di pensiero e di esperienze politiche che è assolutamente disattesa è quello che diceva Michele quello che noi chiamiamo politica cioè questi partiti che sono in realtà ceti e liste ceti attuali e liste per la eventualmente l'innovamento da fare intorno ad altri criteri di selezione di cose anche con dei contenuti perché non dico proprio solo a fine di potere non sono un'antipolitica ci sono anche in ballo dei contenuti ma però in modo frammentato corporativo per l'appunto per pezzi con un rapporto di rappresentanza di interessi specifici sto alle donne guardate Gramsci ha una visione della questione sessuale come elemento costitutivo imprescindibile della questione sociale e politica c'è un passo me lo sono segnato finché la donna non avrà raggiunto un nuovo modo di concepire se stessa e la sua parte nei rapporti sessuali la questione sessuale rimarrà ricca di contenuti morbosi e bisognerà essere cauti nella legislazione geniale aveva già capito l'essenziale adesso siamo ridotti a invece che la questione è una questione di pari di distribuzione di posti è uno stravolgimento oppure è una questione di politiche specifiche per le donne come se appunto come si cura l'infanzia oppure la vecchiaia è una politica di genere femminile è un modo questo di concepire un'altra organizzazione un altro modo d'essere delle relazioni umane no era più contemporaneo al come oggi la coscienza femminile di larghe a livello mondiale perché ci abbiamo movimenti in tutto il mondo su questo dall'America Latina alla Polonia no all'Asia ci abbiamo movimenti in tutto il mondo e le affrontiamo con quest'ottica riduttiva questa è una caratteristica che prevale nella all'interno del ceto politico anche femminile anche delle donne che ne fanno parte ma non è fuori da quella dimensione c'è un'altra c'è un'altra soggettività chiudo con una cosa guardate che uno dei rischi è quella della riduzione del problema della trovare cos'è in comune a soggettività differenti a un problema di somma di identità e di politica specifiche l'identità di contrapposizione anche non ci avete presente il dibattito a sinistra tutto interno alla sinistra abbiamo sostituito i diritti civili individuali e i diritti sociali e con questo abbiamo perso il nostro popolo e siamo diventati un partito della borghesea e dei scedi alti acculturati per l'appunto invece Gramsci ci orienta in tutt'altra direzione blocco storico anche lì anticipa la questione meridionale il contadino non sta a aspettare non è ceto passivo che l'avanguardia operaia deve organizzare e portargli la coscienza dal nord più avanzato dell'area sviluppata questione attualissima anche questa no? è messa in questo proprio sul meridione l'Upo pone per la prima volta prima che nei quaderni in un saggio che precede la prigionia e quindi il lavoro sui quaderni pone la questione degli intellettuali come i mediatori del consenso conforme sono quelli che costruiscono i contadini come una classe passiva un ceto passivo e lui dice un'altra cosa la dignità della condizione del contadino anche qui anticipa stiamo ancora a discutere sulla retratezza del sud non è un problema della retratezza è un problema di partire da quella materialità e dargli la dignità ed elevarla a coscienza politica e dell'abbonazione di un pensiere di un progetto di un'altra società dove per esempio il lavoro della terra e il lavoro della produzione degli artefatti che sia comunque svolto nella concentrazione della fabbrica o nella dispersione del territorio che le tecnologie attuali permettono trovano lì una connessione che è quello che manca bene grazie e credo che adesso possiamo passare la parola a Fabio Luzzi parto da te Luca e dalla questione che brevemente hai sollevato fino a quando e quante tracce di Grammici si trovano nel PC intendiamoci bene una parte molto importante del gruppo dirigente del PC non è mai stata Grammici esatto è stata crociata ha fatto proprio lo storicismo di croce che poi è diventata anche un straordinario strumento giustificativo Grammici sente il problema lo avverte tanto è vero che a un certo punto accenna anche all'esigenza di un'anticroce di un'altra filosofia organica che contesti e contrasti il predominio di Benedetto Croce Grammici chiama il suo storicismo per distinguerlo comunque da quello di Croce storicismo assoluto perché pensa che la la conoscenza e la consapevolezza storica non possa diventare semplicemente eghelianamente lo lo sviluppo della libertà in cammino diciamo come uno srotolarsi di uno spago da un rotolo precostituito perché Grammici vede piuttosto le le rotture i salti è molto più è decisamente molto più moderno se la vogliamo dire così l'ultima traccia forse di un pensiero che ha riferimenti Grammiciani è con Berlinguer poi poi non ce n'è più tuttavia resta questa figura dei Grammici come una potentissima figura che continua ad attrarre attenzione interesse consenso studio e penso che lo farà ancora molto molto a lungo la questione ora sono scambiate queste diciamo sono scambiato questo questo giro di opinioni Maurizio poi De Palma poi Luisa emozioni e passione l'emozione flash la passione di lungo periodo io salirei un altro gradino emozione passione desiderio non esiste buona politica senza un desiderio cioè se non si capisce che cosa tu desideri allora davvero immediatamente la regressione verso un elettoralismo privo di passioni anche se anche se quotidianamente ricco di emozioni di emozioni di cui sono pieni talk show eccetera è inevitabile quindi emozioni passione desiderio il che questa scalata richiede coscienza però come ricordava Luca oggi la formazione della coscienza si è fatta un processo molto molto più complicato la tecnologia lo ha complicato internet e social l'hanno enormemente complicato cito un libro recentemente otto secondi perché gli studi dicano che il tempo dell'attenzione dopo dire il cervello stacca e passa ad altro si sta riducendo a otto secondi un tweet 140 battute e formare una coscienza con questo grado di attenzione che va diffondendosi non è semplicissimo come scrive Kunderan in uno dei suoi libri più importanti l'uomo che vuole ricordare rallenta il passo chi vuole dimenticare accelera la velocità è una funzione dell'oblio non della memoria e persino si scrivono libri come ne ho letto uno recentemente in cui si fa l'apologia di questo modo di procedere diritto all'oblio importante è dimenticare ma quale consapevolezza coscienza storica questi sono tutti bagagli appresso che appesantiscono il cammino e viandate è uscito questo libro di un autore che va per la maggiore sulle televisioni tutte le televisioni da mattina a sera eccetera quindi ritornare alla formazione della coscienza tant'è vero che Gramsci chiama la rivoluzione ricordiamolo sempre riforma intellettuale e morale il che richiede un elevato altissimo grado di coscienza formare la coscienza è molto complicato ma voglio concludere siccome Maurizio ha citato un autore che mi è molto caro è un uomo di cui negli ultimi anni sono stato amico Luciano Gallino che ha scritto cose fondamentali sulle trasformazioni del capitalismo e Maurizio ricordava tu compri un'azione e non sai cosa compri no compri un'azione già qualcosa sai diciamo di un'azienda ma se compri un titolo un prodotto finanziario non hai la minima idea di che cosa stai comprando potresti comprare contemporaneamente le azioni di una grande azienda americana il tasso di cambio dell'OIN giapponese diciamo i titoli di un trafficante d'armi libanese non hai idea di che cosa compri dopo la grande crisi del 2008 che noi parliamo della pandemia che è stata preceduta da una crisi innescata da subprime americani ma è una crisi di cui si hanno fatte già da molto tempo le esatte previsioni che ha provocato sull'economia mondiale sul lavoro gli effetti sarò detto di una guerra tre quarti delle operazioni finanziarie ogni giorno ci passano sulla testa come schegge trilioni di miliardi diciamo Gallino in un suo libro ha calcolato che un computer di Wall Street ha fatto 22.000 operazioni in un secondo le operazioni sono per tre quarti tutte rette da algoritmi che poi gli algoritmi con cui girano i computer delle borse dei studi finanziari si riducono a uno solo no? vai a prendere i soldi dalle tasche dei molti che ne hanno pochi e mettere nelle tasche dei pochi che ne hanno molti i 36 miliardari italiani nell'anno della pandemia hanno guadagnato 54 miliardi di euro i 10 uomini più ricchi del mondo nell'anno della pandemia hanno secondo Oxfam guadagnato 540 miliardi di euro ma se uno dice patrimoniale si appendono le trecce d'aglio alla finestra come per tenere lontani i vampiri si alzano alti lai è uno scandalo cioè che miliardi di persone si impoveriscono e milioni muoiono e che ci sia una ristretta cupola che guadagna delle cifre stratosferiche contemporaneamente questo venne ritenuto nell'ordine naturale delle cose chi è che grida su questo chi desidera smantellare questa roba si è fatto un gran parlare nel 2008 della funzione che hanno avuto i derivati nell'accelerare la crisi nell'affondare la Grecia eccetera eccetera voi sapete quanti sono i derivati in questo momento di nuovo in circolazione 700 mila miliardi di dollari equivalenti di derivati cioè 12 volte il PIL mondiale e si può fare la qualunque nel sistema finanziario si può fare la valeria allo scoperto si può fare il layering che è una forma di insider trading elettronica autorizzata eccetera eccetera nessuno ci mette più bocca lo stato sociale è stata una grande riforma del capitalismo qualcuno comincia a stare il dito per dire veramente il povero Obama ha fatto la folca e rule che poneva qualche freno proprio agli eccessi più stratosferici gliel'hanno quasi tutta rimangiata non c'è governo al mondo che ponga la questione di un intervento sul sistema finanziario viene anch'esso ritenuto come come le stagioni non anche se non sono più quelle di una volta neanche il sistema finanziario è più quello di una volta ma che debba essere riformato in radice se si vuole evitare che la finanza si pappi tutto il resto questo diciamo sembra una pura fantasia dei distopici e invece se si vuole rifare un soggetto delle classi subalterne suppongo che si debba ripartire da qui grazie a tutti voi per questo incontro che mi sembra proficuo di idee credo che su questi temi sia bene non perdersi di vista anche per provare a riacciuffare quell'impegno di formazione che Maria Luisa Boccia richiamava e quindi speriamo di poterci ritrovare ad approfondire criticamente i temi che già qui sono stati abbozzati in riferimento e all'insegna della memoria di Gramsci buona serata a tutti e grazie 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 buona serata a tutti è stato un piacere anche per me grazie